Potenza di gloria, riduri l'arcobalena ai nostri cieli. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Nel giorno consacrato all'amore omaggiamo due eroi innamorati della propria missione compiuta nei cieli a difesa dell'Italia che hanno servito con indomita passione fino al loro istante della loro vita. Onore ai chiuduti, viva l'aeronautica militare, viva l'Italia!